Bu Fagliela tu Bu E questo è quello che dicevi prima, ha visto? La contro prova Stavano qua, stridavano, adesso fagliela domanda Poi la faccio io Vai, fagliela tu la domanda, vai Bu Vai Ci fai vincere lo scudetto? Ti rispondo sinceramente? Sì È difficile È difficile perché C'è una squadra più forte di noi in questo momento E fai una domanda? Ha tagliato subito? No, no, no Vabbè finisco qua Tanto l'hai anche lunedì la presentazione Tu sei abbastanza scaramantico No, però dico Siamo tutti obiettivi Poi è normale che ognuno di noi vuol vincere È quella cosa, no? Certo Però oggi sarà in questo momento Una squadra più forte È l'altro